Non mi racconti niente di questi due giorni? Cosa avete fatto tu e Guido? Tu che avresti fatto? Non mi racconti, non mi racconti, non mi racconti. Dai! Ma che c'è? Cosa vuoi? Se vieni dentro te lo dico. No. Dai, vieni dentro un attimo. Lascia stare, Susanna. Dai, ti devo far vedere una cosa. Non è il caso. Dai. Devo andare adesso. Dai, non farti pregare, vieni dentro. Non è possibile. Dai, solo un attimo. Non esiste, ho detto di no. Vieni dentro. Lasciami. No. Il Melis trovava il confine della sua proprietà spostato di otto metri sul lato est. Il Consorzio Agrario Toccafundi occupava pertanto abusivamente una parte di terra debita a pascolo. Povero Melis, ti sei fatto fregare pure l'erba per le pecore. Allora. 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 Allora.